Ecco come è evidente questo è un calendario, ma per poterlo definire, essendo uno strumento di misurazione del tempo, è necessario definire cos'è il tempo. Ecco, questa è l'immagine piuttosto sfocata a mossa del tempo. Per poterla comprendere è necessario definire di cosa parliamo quando parliamo di mosso e sfocato. Come tutti sanno il mosso e lo sfocato si ottengono quasi sempre per opera di un ventilatore, che qui possiamo vedere ricoperto da una sottile busta di plastica ed accompagnata, la busta, da alcuni allegri amici. Per poter intendere ciò è tuttavia necessario decifrare di cosa parliamo quando parliamo di busta di plastica, di allegri amici. Ed eccoci allora felicemente tornare al punto di origine, in quanto i lieti e felici amici sono i santi del calendario e la busta di plastica è lo stesso calendario. Attraverso questa serie di definizioni siamo giunti finalmente ad alcune certezze.